ok siamo morti però aspetta stai dicendo qualcosa di diverso è partito un video film? cioè penso che no no ah no è quello di prima non è che che è successo allora che cazzo dovevamo fare la chiave l'abbiamo presa era qui allora andiamo su terzo piano ah no dov'era quel tizio? per il là ah era ho capito ho capito vieni era qui da qui si 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 ok non è qui mi sa che qui a destra però come cazzo? ah 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 qui che c'era il corridoio con tutti i cosi ah giusto che appena ritorno guarda un po' nasconditi guarda l'armadietto di qua nasconditi lì eh via via x stai nell'ombra stai nell'ombra stai nell'ombra stai nell'ombra socket cha èia vada 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 che troia via nasconditi subito dalla luce ah al terzo piano giusto si di là no è qua no lì è chiuso porca troia non so se provando a aprire facendo rumore così ti senti Lullia non penso ma pure che lui si è girato però facciati è lì vai che culo ma via pilla 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 batteria prendita non c'è il cazzo allora come si si può aprire qua per niente fermato perché secondo me torna anche qui Lullia c'è quello che s'abattaggio io prima andrei lì però faccio una cosa ah ma qui è no 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 qui ci siamo gestati dove c'è un punto di giro eh si bisogna salentare in giro però lui è di molto mannaro ok questo è cosa c'è guarda guarda per questa porta qui vista con la chiave che si è preso per il terzo piano però io sono curioso mamma come si è brutta ti corri tu corri non vuoi ci fosse qualche super signore da saltare salvataggio porca troia ma aperto e chiudi perché c'è un tizio vedi che è in modo sei nell'ombra guarda oh ascensore è una serie chiusa vuol dire che non si apre ma tu la giochi si ma non provare a andare lì che c'è un eh ma o di qua o di là uno dei due o ascensore eh avremo la batteria vai e nell'ombra no devi salire terzo piano questo qual è? è questa la chiave per il terzo piano l'abbiamo usata per venire qui quindi ho qui ma non penso che si apre infatti è l'unica è l'ascensore ti sembra che hai bisogno ma come? è una chiave magnetica ci vuole come minimo però aspetta un po' guarda un attimo dentro l'ascensore lascio solo botola non ci puoi fare niente no bisogna trovare un cadavere come minimo che abbia la chiave si aspetta qui c'è una porta non l'ho vista sera che c'è qui? dimmi che c'è la chiave qui c'è un'altra porta aspetta in modo che lì c'è qualcuno è sicuro oh batteria perfetto chi è? secondo me è il dottore secondo me è incazzato io faccio così sicurezza non l'ho incazzato bravo ma deve essere per forza qui la chiave magnetica insomma una chiave per si problema ha fatto uno strano non so una cosa ma non è padre San Martino lì? non ci sta ah qui c'è una porta ora sarà proprio quella delicadezza che ha lui e che dice Martino lì? io puro avvicinarmi perché non so se è lui ci proviamo ha salvato? si salvataggio allora andiamo Martino ma è vivo perlomeno si si muove ah ma è quello di prima quello con la maschera no non c'è la maschera guarda si cioè non è una maschera diciamo la sua faccia un po' brutta vabbè almeno è tranquillo io pure che appena mi giro mi sfonda di botte è nervoso ma qui c'è una porta no di là facciamo un giro che non c'è ne venuto non so se come non vorrei ci fossero cose l'unico è qua che io lo porto lì ci devo passare ora apri qui e quello si incazza lo sapevo no ha fatto perché sembra ci sia tipo un botto di luce dove siamo? ma non è un labirinto sta a fare no ma vabbè quante cazze è grande questa questa clinica psichiatrica questo manicomio qui c'è un po' di luce aspetta solo sbuca qualcuno qui c'è una porta biliardo chiudi un po' eh ma se devo scappare poi mamma mia e questo è andato le settimane è lì oh che è sto coso oh ecco prova ma andiamo non penso prova se ci bisogna da chiave che fuori la chiave non lo so però possiamo uscire qui secondo me muori se mi butta ma non era aperta ma ti rendi conto dove siamo vero moriamo moriamo un essere umano se si butta chi muore ci vogliamo lanciare quello cerchiamo di cerchiamo comunque secondo me era una buona video uscita vabbè ma secondo me anche io per me però per lui no oh ma è che vado a provare dopo sì infatti ma se non vedo che non c'è niente lì in cima vado mi butto che rottura di palle niente 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 eh vedi cammino a bordo ma lì vado dove è prima e provo e qua invece e là non vai e invece vado prova oh ma che vado ti suicidi non ci va ma non posso anche buttarmi come no salta vai su vai sul lato ah c'era il barbatrucco ma lì non è dove essere la prima non ci capisco un cazzo non c'è no aspetta non c'era no perché non c'era la finestra sfondata eh sì se no si sarebbe visto eh sì ah e dove c'era la porta bloccata god evit sickles di vari inglesi salvataggio dio dio aspetta 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 dove vado guarda un attimo di qua dove c'è la croce ah qui dove c'era di dove dicevo io c'è qualcosa da due via allora andiamo di là è qui ah dove c'è l'altizio vedi noi c'era qui sì qui è bloccato come meno sì sì per forza infatti dove c'è la croce chi è quello oddio god 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 io ho dei soldi sentone di il filmo padre casquano qui si chiama padre filmalo lì senza il fate maron sono pronto sì a breve raggiungeremo un'altra filmo ti ho già visto ma non ti caga ma perché se questi non vogliono ma se mi io secondo me vedici in culo secondo me siamo noi i bull rider che stai god always perché è perché come se mi stasso aspettando è una cosa comunque riprendi tutte queste roba qui guarda se ti dà qualche nota qui queste scritte no cioè secondo me siamo tipo una parte mancante di questo ribito o qualcosa del genere provo perché vedi che quando me che le c'inculano guardalo 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 si tocca ah e ti guardavo veramente che schifo la batteria ti vuoi entrare in chiesa chiesa tra virgolette con la telecamera ti guarda sta gente qui ragazzi stanno aspettando me oh il mio compito solo tu potrai fuggire per raccontarmi il genio che ho fatto sto giochino questo è il suo penultimo atto di settimana ah ma questo è in piccato è il crocifisso eh padre martin lo stanno significando per qualcosa per il bull rider ovviamente per forza che è il suo penultimo che non è non c'è il suo penultimo ah devi riprendere riprendi tutto così ho riparato l'ascensore ti compro la libertà tu non saremo liberi bisogna tornare l'ascensore no e tu riprenderai la mia morte e la risurrezione ti prendo un po' io oppure che appena questo qui muore ci attaccano tutti visto ci bisogna tornare l'ascensore mi sa che è stato sblocato senza carte capito lui si sacrifica e rinasce come volerai eh ma lo dice di riprendi infatti sto riprendendo quindi andrà anche dritto vabbè io direi che è posto bisogna tornare all'ascensore andiamo ah qui sopra che è deficiente ci sono anche muto per primo per noi ci rimancano 4 dita 30 costure rotte e gamba masticata no quindi scendiamo salvataggio perfetto quindi possiamo anche ripartire andiamo davanti all'ascensore e poi c'è un merda eh no c'è un merda dov'è l'ascensore eh no ah dov'è la stanza aperta l'hanno racchiusa ovviamente che culo ma è come un cavolo non è questa la stanza da buttarsi ovviamente ti pareva certo non me l'ha salvato lì dove questa cosa è aperta no vaffanculo martini no 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 mi ha steso con un pugno levati che buco di puro c'è la finestra notte la finestra sono venuti ma dov'è è questa forse è qui la finestra ehi sono morto siamo in un'altra parte mi sa no oh mi sa per nasconderti mamma che pugno mattina c'è la salvataggio tanto ovunque qui speriamo che non ci rispavano il mostro qui noi bisogna andare non andare avanti che ti rispavano lì no c'è già no non c'era perché vabbè 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 siamo a ferri no 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 proviamoci un'altra volta nascondi ehi premessi il tasto giusto sarebbe cari forse il cretino non mi prende no 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 madonna che si abbiamo ancora l'altra volta ce l'ha con noi tieni tu mano per fidarti mi spavano è dritto non è che spavano è lì no non ce la guarda appena entra io non ce la guarda siamo da 3 2 1 non arriva ok ragazzi lasciate un bel mi piace che noi andiamo a fare un giretto e torniamo al prossimo video ciao 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 ciao